Ad un giorno dalla proclamazione di Pesaro Capitale della Cultura per il 2024, riparte con un programma ricco di eventi il Progetto Quintus, il quartiere microcosmo del futuro. Sei mesi di iniziative pensate dal quartiere 5, che vede da gennaio Vismara, Cattabrighe e Torraccia disporre del titolo di capoluogo della cultura della città fino al 30 giugno 2022. A breve avremo l'inizio di un laboratorio che si chiama Giochiamo a rilassarci, che è dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni e inoltre poi avremo l'appuntamento il 27 di marzo con Bicilibro, una delle attività preparate dal Teatro dei Bottoni che riguarderà praticamente un giro in bici con un carrellino apposto dietro a una bicicletta per poi fermarsi e leggere qualcosa insieme nel parco. E questa è un'attività itinerante che partirà da Vismara e finirà nel parco di Cattabrighe. Inoltre andando avanti poi avremo come altri due appuntamenti principali l'importanza della natura, organizzato da Timmagini Ollus, sempre dedicato ai ragazzi, in cui praticamente si costruiranno oggetti con materiali di recupero, insomma il focus è sull'ecosostenibilità, sul riciclaggio eccetera. e poi avremo sempre in aprile il laboratorio di ceramica presso la sede di Ceramiche Bucci a Sembracattabrighe. La partecipazione è stata buona anche di cittadini al di fuori del quartiere, quindi per ora siamo molto soddisfatti. Come si fa per partecipare? Ci puoi dare qualche indicazione? Allora, la partecipazione è libera, noi abbiamo cercato di diffondere il più possibile a livello promozionale tutte le nostre attività che sono appunto totalmente gratuite, che cercano di coinvolgere qualsiasi tipo di soggetto, di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza, anche non solo qui del quartiere appunto, ma anche per favorire la conoscenza del nostro quartiere da chi ancora non lo conosce o non lo frequenta. Attraverso le nostre pagine Facebook, quindi sia della Cooperativa Inside che del Consiglio di Quartiere, è possibile vedere tutta una serie di programmazioni e per ogni evento c'è l'indicazione di come partecipare, quindi a che numero eventualmente richiedere informazioni, sulla base delle associazioni appunto che organizzano quella specifica attività. Invitiamo sia tutti quelli che stanno collaborando, tutta la popolazione che può aderire alle iniziative che facciamo, li invitiamo a partecipare perché più siamo e più le cose vengono migliori.